Vi ho già detto che a Campione d'Italia sono di casa. Nel salone delle feste del Casinò presento eventi, manifestazioni, concerti e naturalmente vista la mia passione per la moda anche defilé e presentazioni di collezioni di abbigliamento. Le creazioni della stilista Lidia Cardinale sono state le protagoniste dell'ultima sfilata che ho presentato nelle sale del Casinò di Campione. Ma prima di parlarvi della serata, venite a vedere cosa succede nel backstage qualche ora prima. Truccatissime! Quanto sei in alto, amore? 189. Perfetto, questo deve essere nascosto dentro. Stupendola! E alla fine, tutti pronti per la sua re. Prima della sfilata, Antonio Versini e il mago Phoenix hanno stupito il pubblico con la loro abilità, accompagnando la cena con numeri di grande classe. Poi, è stato il momento della presentazione della collezione invernale 2015-2016 di Lidia Cardinale. Un defilé elegante e informale, per sottolineare il mood della donna che sceglie questo brand. Sicura di sé, consapevole del proprio ruolo e a proprio agio in ogni situazione. E alla fine, tutte sul palco a raccogliere gli applausi del pubblico. Naturalmente, con l'artista che ha disegnato i modelli, ha scelto i tessuti e ha curato i dettagli. Insomma, lei, Lidia Cardinale.